Il più cordiale buon venerdì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Si avvia la fase finale progetto Esserci per cambiare il nostro quartiere, finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Stasera alle 19.15 il settimo incontro di progettazione partecipata al Museo Michelangelo di Caserta, che ha sede dell'Istituto Tecnico Statale Buonarroti. E domani alle 18.30 allo studio Il Castello di Maddaloni inaugura la mostra dell'artista napoletano Ciro D'Alessio, impressionismo radicale e il titolo della personale a curarla Angelo Pagliaro. All'Hotel Royal domani alle 18.30 e alle 20 e poi domenica 9 febbraio alle 17 e alle 18.30 mutamenti Teatro Civico 14 e il nuovo Teatro Sanità presentano Do Not Disturb. Il teatro si fa in albergo, un progetto di Claudio Finelli e Mario Gelardi, Corberto Solofria, Ilaria Delipaoli, Antimo Navarra. Cena con delitto organizzato dall'Associazione Alterum di San Nicola la Strada. Una serata all'insegna del divertimento e del buono cibo, sempre domani alle 20.30. Roma Eternum è lo spettacolo che la Compagnia Nazionale di Giovani Danzatori porterà in scena domenica 9 alle 18.30 e poi lunedì mattina per le scuole al Teatro Don Bosco di Caserta. La direzione artistica è di Rossella Rocciola. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione.